E la carne? Troppo buona. E gli hamburger? Buonissimi. E la musica? Rigorosamente dal vivo. E la birra? Da volar via. Domenica 12 giugno al Golf & Country di Salice Terme si celebrano le bollicine dell'Oltrepo Pavese. Un vero trionfo di Pino Nero, un evento che farà felici tutti gli appassionati del vino e non solo. E siamo con il presidente di Vitis Vinifera Project a cui chiediamo da cosa nasce l'idea di organizzare questo evento. L'evento nasce soprattutto per celebrare lo spumante dell'Oltrepo Pavese. Consideriamo che in Oltrepo Pavese abbiamo 13.500 ettari vitati. Tra questi abbiamo del risin, del moscato e dello chardonnay che si prestano molto bene ad essere spumantizzati. Ma soprattutto abbiamo 3.500 ettari di Pino Nero. Tanta gente non è a conoscenza del patrimonio che noi abbiamo. Sempre più spesso mi capita di andare nei vari locali, nei bar, cercare delle bollicine firmate Oltrepo Pavese. E mi sento dire sempre che abbiamo del Prosecco, del Franciacorta. Questo è un problema di cultura, cioè non c'è proprio la cultura del bere bene e del bere Oltrepo. Quindi l'evento vuole manifestare la possibilità per tutti i wild lover, per chiunque sia interessato a bere bene, di bere dello spumante Oltrepo Pavese. Mi viene in mente così sentendo le sue parole, ma non sarebbe bello esportare questo evento anche al di fuori del nostro territorio? Allora io direi che iniziamo con questa edizione, potrebbe diventare un format molto interessante, quindi dall'edizione 0.0 potremmo riproporla negli anni a venire e iniziamo a vedere come viene questo e poi decidiamo. Chi verrà, chi parteciperà, che cosa potrà fare durante la giornata al di là, insomma di assaggiare il vino, immagini o di sentirne parlare? Allora sicuramente l'invito è aperto a tutti, a chiunque ami il vino, ai wine lover. Ci sarà la possibilità veramente degli appassionati, degli spumanti di confrontarsi e di assaggiare delle ottime bollicine. Durante l'arco della giornata ci sarà anche la possibilità di provare a praticare il gioco del golf, quindi sicuramente abbiamo cercato di fare un connubio tra il gioco del golf, attività motoria e la degustazione, quindi un qualcosa di veramente interessante e innovativo. Assolutamente, tra tutte le aziende partecipanti ci sarà anche Terre che recentemente è balzata agli onori delle cronache per fatti non proprio positivi, diciamo così. È un modo per porre nuovamente al centro dell'attenzione questa azienda per altri motivi, per dei meriti piuttosto che per demeriti? Allora consideriamo che Terre intanto è una grande azienda, è la cantina più grande, ci sono circa mille conferitori che portano le sue uve. Io ritengo che non bisogna associare il nome di Terre allo scandalo, ma ci saranno delle persone che verranno punite, chi ha sbagliato pagherà, ma saranno le persone che devono pagare, non la cantina. Un esempio, come se io ho un'azienda, io faccio qualcosa che non va bene e ne deve risentire la mia azienda? No, ne devo risentire io. È un'azienda che offre tanto lavoro a tante persone. Secondo me è giusto che si metta insieme alle altre aziende e che rilanci il suo nome, anche perché comunque ha dei prodotti validi. Se il prodotto non fosse valido, allora sarebbe un altro discorso, però direi proprio di cancellare il fatto di questo scandalo. Le altre aziende coinvolte sono state comunque felici di avere insieme a loro Terre durante questa grande giornata? Non hanno espresso il loro parere negativo, diciamo così. Vogliamo rinnovare l'appuntamento, dimenticare gli scandali e rinnovare l'appuntamento quindi per domenica? Allora, l'appuntamento è per domenica dalle ore 17, quindi l'apertura sarà alle ore 17 fino alle ore 22. Come vi dicevo, sarà una giornata dedicata alla spumantistica dell'Oltrepo Pavese e venite numerosi, vi aspettiamo. Algonfe Country Salice Terme? Nella Salice del Benessere. Partner tecnico dell'evento è il consorzio Tutela Vini Oltrepo, che ancora una volta vuole evidenziare l'importanza di promuovere l'Oltrepo Pavese, per questa occasione all'interno di una location importante come il Golf Country Club di Salice Terme. In caso di maltempo l'evento verrà rimandato a data da destinarsi.